Domenica di ballottaggio in 139 città italiane, tra cui 8 pugliesi, Bari, Francavilla Fontana, Ostuni, Foggia, Sansevero, Lucera, Copertino e Ortanova. Spicca la sfida del capoluogo di regione tra il candidato del centro-sinistra Antonio De Caro, che al primo turno ha raccolto il 49,4% dei consensi, e il candidato del centro-destra Mimmo Di Paola, che parte dal 35,8% del 25 maggio. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Sulla scheda gli elettori troveranno solo i nomi dei due candidati sindaci. Si voterà tracciando una croce sul nome del candidato prescelto. Gli elettori si dovranno recare al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Si voterà anche per il ballottaggio in quattro dei cinque nuovi municipi, escluso quello di Poggio Franco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca, dove Andrea D'Amacco è stato eletto al primo turno. Si ricorda che per gli elettori con gravi difficoltà di deambulazione o che utilizzano una sedia a rotelle, l'amministrazione comunale metterà a disposizione il servizio gratuito di trasporto ai seggi. Per fissare l'appuntamento è possibile contattare l'ufficio elettorale ai numeri 080 577 2120 oppure 080 577 2115. Inoltre, per chi fosse interessato a fare domanda per la sostituzione dei presidenti di seggio in caso di rinuncia o impedimento, potrà inviare la richiesta via mail composta certificata al seguente indirizzo o recandosi personalmente entro il pomeriggio di sabato presso l'ufficio di gabinetto a Palazzo di città.